Il nostro telegiornale Orti privati, Vivai e un'auto rimessa nel mirino dei ladri Danni ingenti e raffica di furti, di benzina e casse con olive appena raccolte dagli anziani Truffano i fanesi che vendono prodotti online Quattro italiani scoperti e denunciati dalla polizia Un colpo di sonno e l'auto si ribalta Paura, Urbino, per il cinquantenne alla guida è rimasto illeso Il veicolo completamente distrutto Un decesso e record di positivi nelle marche da inizio pandemia Più di 400 in 24 ore In aumento i ricoveri in terapia intensiva e le persone isolate in casa Il sindaco di Fano annuncia più controlli e multe ai trasgressori Presidi d'accordo con la didattica a distanza per il triennio delle superiori E no al cambio d'orario e soluzioni alternative per la connessione internet degli studenti I nostri mezzi di trasporto sono sicuri Allora qui c'è casa Fiorento Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia Apriamo con la serie di furti che sono stati messi a segno nel quartiere di Borgo Santa Maria a Pesaro Nella notte i ladri hanno rubato cassette con le olive, taniche di benzina e gasolio Ingenti danni provocati alle strutture ma anche ai mezzi parcheggiati Sentiamo Questa mattina verso le 9 sono venuto qui nell'orto Ho trovato il cancello aperto, la serra aperta e la serra di ferro con il lucchetto spaccato Hanno portato via 10 cassette per le raccolte delle olive Hanno portato via la benzina e la nafta che uso sia per il trattore che per l'altro il desespogliatore E poi dagli altri giù a quelli dei camion hanno rotto un vetro al camion A una macchina e hanno tentato di portare via la benzina Al vivaio sempre lì di fronte hanno rubato la nafta dal camion Tagliando i tubi dell'acqua per aspirarla Al mio amico di fronte qui gli hanno portato via due taniche Delle cassette di vuote naturalmente per le raccolte delle olive e della benzina Abbiamo fatto la denuncia ai garabinieri I garabinieri sono venuti, hanno guardato laggiù sia il vivaio che il camion Venivano qui, però qui non ci sono visti ancora Non so se possiamo fare la denuncia perché loro non vogliono che si entrano in caserma Perché per la faccenda del covid Il cifre non è molto ma è tutta la cosa, il fatto che li spaccano tutto Deve rimettere il lucchetto nuovo, la serratura nuova Le cassette deve ricomprarle I danni non saranno molti per ognuno, però insomma è consistente E la polizia di Fano ha denunciato quattro persone che avrebbero truffato Alcuni fanesi che vendevano prodotti online Le cifre sottratte alle vittime vanno da 400 a 3.000 euro Il servizio di Filippo Pucci Sono stati denunciati per truffa tre uomini e una donna Scoperti dagli agenti del commissariato di Fano Grazie a delle denunce sporte da chi aveva subito raggiri Le indagini dei poliziotti, coordinati dal dirigente Stefano Seretti Hanno permesso di ricostruire il modus operandi dei truffatori Di età compresa tra i 20 e i 40 anni E residenti in Emilia, Abruzzo e Campania Le vittime in questo caso sono i venditori Tutti i fanesi che dopo aver inserito online i prodotti di varia natura Venivano contattati telefonicamente dai presunti acquirenti I malfattori, sostenendo anche di essere diversamente abili Riuscivano a convincere i venditori a recarsi negli sportelli banco Per le operazioni di denaro pattuite Ma qui i fanesi dai 40 ai 60 anni di età Venivano guidati sempre al telefono Su cosa digitare nella tastiera dello sportello Nella falsa convinzione di operare per l'accredito Mentre in realtà venivano condotti ad effettuare un addebito In alcuni casi, anche più volte Fino a raggiungere importi che variavano dai 400 a oltre 3.000 euro Solo dopo, quando ormai era troppo tardi Le vittime avevano realizzato quanto accaduto Rivolgendosi così al commissariato di Fano Ora proseguono gli accertamenti della polizia che sta indagando su altre denunce e segnalazioni E anche oggi nelle Marche si è verificato un decesso legato al coronavirus La vittima è un'anziana di 91 anni morta all'ospedale di Fermo La donna del posto aveva patologie pergresse I contagi invece sono in forte crescita Anche in relazione ad un aumento dei tamponi testati Dopo i 321 casi rilevati ieri Oggi si registra un record da inizio pandemia Con 453 positive riscontrate nel percorso nuove diagnosi 127 in provincia di Macerata 111 in quella di Ascoli Piceno 92 nel Lanconetano 70 in provincia di Fermo 42 in quella di Pesero Urbino E 11 fuori regione Questi casi comprendono per lo più contatti in ambiente domestico 97 i casi rilevati E 116 contatti stretti di casi positivi Inoltre i ricoveri passano da 152 a 174 I pazienti in terapia intensiva salgono da 19 a 22 Mentre quelli in semi-intensiva da 8 a 9 In aumento anche le persone in quarantena Per contatti con contagiati Che ad oggi sono oltre 7.500 Il sindaco di Fano Massimo Seri Annuncia un aumento dei controlli Sul rispetto delle norme anticontaggio E assicura i trasgressori verranno sanzionati Siamo tutti responsabili Collaboriamo tutti per mantenere una città viva e sicura Inizia così il messaggio del primo cittadino di Fano Massimo Seri Che ieri mattina in prefettura a Pesero Ha partecipato al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica La riunione era stata convocata da Vittorio Lapolla Per analizzare i provvedimenti anti-Covid Alla luce dei decreti del Premier Conte Ai quali è seguita l'ordinanza del Presidente regionale Francesco Acquaroli Nonostante la situazione a Fano sia sotto controllo dal punto di vista dei contagi Il sindaco non vuole abbassare la guardia È importante che ognuno di noi tenga comportamenti responsabili A iniziare dal mantenere la mascherina Quando andiamo a passeggiare Quando andiamo in giro Ci incontriamo con altre persone In tutti i luoghi dove c'è assembramento Dove ci sono ritrovi di persone Perché sono le regole più elementari e le più importanti E allora un appello lo faccio a tutti i cittadini Giovani e meno giovani Perché riguarda tutti quanti E stiamo assistendo che i contagi tendono ad aumentare Alcune persone sono in fin di vita proprio per il Covid Per cui fortunatamente qui a Fano la situazione è sotto controllo Ma questo non significa che dobbiamo rilassarci e trascurare le regole Quindi prima cosa è questa rivolta a tutti Seconda cosa, coloro che hanno delle attività Io vedo che la stramaggioranza è corretta Però ci sono ancora persone che non rispettano le regole anche negli esercizi Quindi anche su questo mi appello al buon senso e al rispetto delle regole Il sindaco ha poi annunciato un aumento dei controlli Assicurando che chi non rispetta le norme anticontagio verrà sanzionato Noi abbiamo adottato un criterio che è quello della persuasione Della condivisione Dell'aiutare al rispetto delle regole Ma poi c'è un limite Quando queste per coloro che non le rispettano poi interveniamo Abbiamo anche detto che aumenteremo con le forze dell'ordine i controlli Che non devono essere soppressivi, repressivi Però se c'è bisogno interveremo anche con delle sanzioni Perché poi c'è un momento in cui occorrono anche queste Per la tutela di tutti Ripeto, è per tutelare noi stessi e gli altri E diventa importante se vogliamo proseguire mantenendo questa situazione Nell'interesse anche della città E i comitati priorità alla scuola di Ancona e Civitanova Marche Si schierano contro l'ordinanza del presidente della regione Acquaroli Che dispone a partire da domani la didattica a distanza Al 50% per gli ultimi tre anni delle scuole superiori I comitati chiedono al governatore un immediato dietrofronte Perché la perdita di ogni singolo giorno di scuola Si ripercuote, secondo loro, sulle abilità cognitive degli studenti Sull'aumento dell'abbandono scolastico, sulla minor propensione e capacità di iscrizione all'università Ma anche di trovare lavoro Per avere un esempio lampante di quanto i nostri alunni hanno perso in apprendimento Insistono i comitati È sufficiente guardare i punteggi del concorso di ammissione delle professioni sanitarie Mai così bassi E sulle nuove disposizioni per le scuole superiori Oggi abbiamo sentito il presidente regionale dell'Associazione Nazionale Presidi Per capire in che modo si stanno organizzando le dirigenze scolastiche Ma anche che cosa succederà appunto da domani per il triennio Tutti i dettagli nel servizio di Angelica Panzieri La giunta regionale ha firmato la prima ordinanza anti-covid Che prevede nuove strette anche nel mondo della scuola Da domani, sabato 24 ottobre, prenderà via la didattica a distanza al 50% Per il triennio delle superiori Nessuno stoppa le lezioni in presenza Ma la didattica a distanza al 50% per le classi terze, quarte e quinte delle scuole superiori Diventa obbligatoria L'ordinanza firmata dal presidente della regione Francesco Acquaroli La numero 39 del 2020 Avrà valenza fino al 15 novembre La regione poi si regolerà di conseguenza Non sono esclusi altri provvedimenti restrittivi in futuro Tutto dipenderà dall'andamento della curva dei contagi Lezione in presenza dunque per tutti gli altri istituti Dalla materna, le prime due classi delle superiori Altra stretta, quella che riguarda il trasporto pubblico locale La nuova ordinanza prevede una riduzione della capienza degli autobus Dall'80 al 60% Per scongiurare gli assembramenti Misure accolte con favore dal preside del liceo scientifico Marconi Riccardo Rossini Nonché presidente regionale dell'Associazione Nazionale Presidi La didattica a distanza non può avere ovviamente la stessa valenza della didattica in presenza Ma siamo in una situazione alquanto critica Il distanziamento sociale anche all'interno della scuola Quindi riducendo ad esempio del 50% appunto gli studenti presenti in ogni istituto Sicuramente contribuirà a ridurre il rischio e a rallentare il contagio Questo siamo piuttosto convinti C'è il rischio che qualcuno rimanga senza supporto tecnologico? A noi ad esempio come il cero scientifico sì Abbiamo acquistato dei server con delle sim Che possono essere portati direttamente al soggetto che ne ha bisogno Sono dei mini server, degli hub praticamente per la rete A quale la famiglia può accedere, collegarsi alla rete E con quello, anche se la sua connessione è scarsa oppure non ce l'ha Con quello può fare didattica a distanza Sappiamo che dal prossimo martedì anche i pullman viaggeranno al 60% Quindi si modificheranno probabilmente le tratte Adesso dovremo parlare con loro, parlare con le aziende dei trasporti Capire come si modificherà il loro servizio E come avete sentito dal servizio con l'ordinanza del governatore È stata ridotta anche alla capienza dei trasporti pubblici I nostri mezzi sono sicuri, ha garantito il direttore di Aderabus Massimo Benedetti L'azienda sta sperimentando una nuova modalità di sanificazione Il servizio di Letizia Marchionni Una stretta che è stata definita da tanti soft Quella dell'ordinanza che Acquaroli nella giornata di ieri Ha firmato a Palazzo Raffaello Il punto più determinante tra quelli enunciati dal governatore però È sicuramente quello che riguarda le scuole superiori È previsto a partire da sabato Il 50% di didattica a distanza per gli allunni del triennio Mentre per quelli delle classi prime e seconde Il piano scolastico rimarrà invariato Ma il nodo della questione non riguarda la sicurezza scolastica Infatti da come fa sapere il governatore Acquaroli Il problema principale è proprio il trasporto pubblico locale Che non riuscendo a gestire il distanziamento sociale all'interno del mezzo Porta alla creazione di assembramenti potenziali fonti di contagio Oltre 3.000 studenti pendolari in meno Che seguiranno le lezioni da casa Per cercare di decongestionare gli autobus fin troppo pieni Si abbassa anche la soglia della capienza consentita Dall'80% al 60% Per permettere un maggiore distanziamento all'interno dei mezzi I mezzi rimangono quelli che ci sono adesso E quindi saranno automaticamente molto meno affollati Crediamo che sia una risposta a quella percezione di affollamento che c'era prima Siccome i ragazzi che vengono a scuola vengono da varie origini dell'entroterra Quindi non sempre saranno costanti all'interno dei singoli mezzi Quindi noi monitoreremo perché magari, faccio l'esempio, nel 50% di un giorno Tutti arrivano da magari potrebbero arrivare, statisticamente non è così Ma potrebbero arrivare in più, qualche volta in più da una zona E nella rotazione successiva più da altre zone Quindi noi saremo sempre attenti a verificare Che il carico a bordo sia il più leggero possibile Una sperimentazione che durerà circa tre settimane Fino al 15 di novembre Al termine delle quali, fa sapere il governatore Si esaminerà l'andamento della curva dei contagi E si deciderà se occorrerà o meno stringere la cinghia Intanto Adribus fa sapere Massimo Benedetti Continua ad impegnarsi per la sicurezza e la salute dei passeggeri Stiamo sperimentando su una decina di veicoli Degli apparati che intervengono sia sulla sanificazione dell'aria a bordo Cioè sono proprio inserite all'interno dei canali di ricircolo dell'aria condizionata Con un processo fisico-chimico Una decina di mezzi di apparecchiature Che ad autobus chiuso naturalmente vuoto Sprigiona un vapore Reposandosi sulle superfici Contiene naturalmente un potente disinfettante Abbatte la carica batterica dei virus per oltre il 99,9% Il messaggio che deve passare è che comunque i nostri mezzi sono sicuri Delle prossime ore saranno leggermente più vuoti ma ancora più sicuri Il servizio sanità della regione Marche ha inviato all'Asura, alle aree vaste e agli enti gestori Le linee di indirizzo per la gestione dell'emergenza nelle strutture residenziali e semi residenziali Sono in consegna 148 strutture e kit con tutti i dispositivi di protezione individuale Si tratta di circa 400.000 mascherine chirurgiche, 300.000 FFP2, 35.000 camici, 24.000 visire e 740 taniche di gel da 5 litri Viene raccomandato sia al personale che all'ospite l'utilizzo dei test rapidi antigenici Ogni 15 giorni per intervenire velocemente nella diagnosi clinica e prevenire la diffusione del contagio Inoltre l'accesso di parenti e visitatori è limitato ai suoi casi indicati dalla direzione sanitaria Ancora cronaca, perde il controllo dell'auto e si ribalta L'incidente autonomo si è verificato oggi pomeriggio intorno alle ore 15.30 lungo la strada che da Urbino porta a Urbagna Nelle vicinanze della frazione di Tufo Alla guida della Dacia a Sandero c'era un cinquantenne che ha dichiarato di aver avuto un colpo di sonno Il veicolo sul quale viaggiava è finito prima in una cunetta al lato della strada Poi in un tombino sulla scarpata ed infine in mezzo alla carreggiata ribaltata sul lato L'uomo è uscito illeso dall'abitacolo ma la Dacia è andata completamente distrutta Sul posto i carabinieri di Urbagna e i vigili del fuoco di Urbino che hanno messo in sicurezza l'auto e la zona C'è tempo fino al prossimo 25 ottobre per iscriversi al corso di Robotica e Innovazione Digitale Anche quest'anno al Codma di Rosciano prosegue l'alta formazione per l'industria 4.0 Un percorso formativo per affrontare la quarta rivoluzione industriale In un mondo in cui il digitale sta trasformando il modo di lavorare nelle fabbriche Ma anche le catene di fornitura fino al rapporto col cliente finale Sono sempre più richieste figure competenti Stiamo assistendo a un processo irreversibile che porterà alla produzione automatizzata Dove i tecnici altamente specializzati contribuiscono alla crescita dell'industria 4.0 Per assicurare un efficace e rapido inserimento nel mondo del lavoro A Fano è disponibile un corso gratuito promosso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca È un corso ITS, un istituto tecnico superiore di Robotica e Innovazione Digitale Si rivolge a ragazzi e adulti anche diplomati Quindi è un post diploma o post laurea Quante sono invece le ore totali? Le ore totali sono 1800 Sono divise in aula e laboratorio Noi tra l'altro qui ci troviamo in uno dei nostri laboratori E poi ci sono di queste 1800 ore ben 800 sono in stagi, in azienda I ragazzi saranno principalmente impiegati negli uffici delle medie e grandi imprese Che stanno spingendo molto sull'innovazione e sulla robotica Quindi possono essere in uffici dove si fa la programmazione Dove ci sono praticamente gli informatici O negli uffici dove si fa proprio la progettazione del prodotto Un'altra mansione importante è anche quella proprio nel controllo del processo Quindi ad affiancare proprio i responsabili degli stabilimenti L'iscrizione al corso, che dura in totale tre anni Scadrà il prossimo 25 ottobre Ma verranno valutate anche le domande che arriveranno successivamente La percentuale di impiego, spiega il presidente Paoletti Supera l'85% Tanto che molti studenti del primo anno hanno già un lavoro part-time Tra le aziende che collaborano con l'istituto Anche tramite il ruolo di docenti C'è l'Intac SRL di Senigallia Che applica le tecnologie informatiche agli impianti Creando ambienti intelligenti e interconnessi Noi crediamo che l'industria 4.0 sia un'opportunità E la trasformazione digitale in generale Per innovare le aziende E creare anche nuove forme di occupazione Per questo dedichiamo una parte del nostro tempo A collaborazioni con istituti di ricerche, università e ITS del territorio Per andare a formare quei tecnici che andranno a lavorare nell'industria del futuro Con ITS stiamo facendo un progetto Diciamo delle docenze e dei laboratori Per diffondere la conoscenza delle tecniche di programmazione E dei sistemi di controllo per l'industria 4.0 E ovviamente alcune delle immagini che avete visto sono di repertorio Dunque girate prima dell'emergenza sanitaria Adesso parliamo di ginnastica dolce Perché dopo il grande successo riscosso dal programma Anziano Sarai Tu Lunedì prossimo trasmetteremo le nuove puntate del progetto Realizzato in collaborazione con Asi A grande richiesta ritorna su Fanno TV Anziano Sarai Tu Le lezioni di ginnastica che durante il lockdown hanno permesso a molti telespettatori Di restare in forma e mantenere la linea Un progetto portato avanti da Asi e dal Comitato di Urbino In collaborazione con Etica Che da lunedì 26 ottobre sarà in onda tutti i giorni alle 10 e alle 16 Per portare la ginnastica comodamente a casa Dopo il successo ottenuto dalla prima stagione Tra virgolette di Anziano Sarai Tu Avete deciso di replicare? Visto proprio come hai detto tu il successo che ha avuto la prima stagione Nata un po' con il lockdown di primavera Dovuta a questa emergenza sanitaria Abbiamo deciso di riproporlo Di riproporlo soprattutto per gli utenti che ci hanno seguito Fino a febbraio dello scorso anno Ma che sono quei soggetti che in questo momento sono un po' più a rischio E quindi gli portiamo a casa la ginnastica dolce Chiaro è che queste lezioni poi Non tratteranno soltanto della lezione di ginnastica dolce Ma a turno verranno dati i consigli dai professionisti di etica Uno su tutti il nostro psicologo Semi Marcantonini Poi parteciperanno i vari medici dello sport Il nostro fisioterapista Il nostro osteopata E il nostro nutrizionista Appunto ripeto per dare consigli utili a chi ci segue Sarà fatta da casa? Servirà materiale particolare per seguire le lezioni? No, la caratteristica di queste lezioni è appunto Che anche i ragazzi, i nostri istruttori Che insomma registreranno la lezione Daranno consigli anche Faranno esercitazioni con materiali che si possono trovare benissimo in casa Che tutti noi possiamo avere dentro casa Invitiamo tutte le altre persone a recarsi nelle nostre palestre Dove l'attività anche di ginnastica dolce viene fatta in totale sicurezza Quindi mantenendo la distanza di sicurezza Con il triage iniziale dove appunto viene presa anche registrata la temperatura Dove sicuramente troveremo una lezione molto più coinvolgente E anche duratura rispetto a quella che manderemo in onda E anche oggi apriamo il grande album di Fano TV Per fare gli auguri a Bruno Mariotti e Cecilia Mazzanti di Rosciano di Fano Che oggi festeggiano 60 anni di matrimonio Auguri da tutti i familiari e ovviamente dallo staff di Fano TV E vi ricordo che lunedì sera torna Primo Cittadino Come vedete alle mie spalle Il sindaco di Urbino Maurizio Gambini sarà nostro ospite Potete leggere tutti i numeri di riferimento per intervenire in diretta Tra poco invece andrà in onda la prima puntata di Casa Fiorenzo Un programma di Fano TV promosso dall'organizzazione produttori della pesca di Fano E dedicato ai piatti della tradizione locale al pesce dell'Adriatico Protagonisti Fiorenzo, Gianmattei e Stefano Facchini Seguirà uno speciale dedicato agli stati generali del turismo E allora buona visione con i programmi di Fano TV L'informazione torna domani mattina con la rassegna stampa Occhio ai giornali Insieme al direttore Marco Ferri Buona serata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.